Minchia raga, questo è proprio Cioè, ho visto tutto bianco Ho premuto solo il tasto home Disperato, sarà pure bloccato il sistema Cioè, è caduta da circa Un metro e cinquanta Caduta da circa un metro e cinquanta Ci sono telefoni Ultrarisistenti che sono garantiti fino a due metri Un metro e sessanta senza rompersi Un metro e cinquanta Quaranta e cinque Cinquanta, non lo so mai Di bordo così è caduto Sì, di bordo così Ok raga Quindi Lancio, abbiamo un muro di là Abbiamo un muro qua Vedete? Abbiamo il muro del caminetto Se io ce lo lancio Che succede? Proviamo 3, 2, 1 Ciao raga, mia mamma lo ammazza Ciao Beh, per registrare Registrare ancora La fotocamera sembra sporca Forse la vernice del muro Ma non noto segni sul muro Voi notate segni? No Il muro non c'è stato niente Il display, ok Non noto graffi Dietro non ha preso urti No Solo il display È caduto Ok Plastica Plastica Eeeh Oddio Sì che noto segni Sei aperto La plastica Ok Lo richiudo Sì Tranquillamente E va bene Io spero che questi due video Drop test Vi siano piaciuti Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao